The Lost Lords è il secondo episodio dell'adattamento videoludico di Game of Thrones. Dopo un primo capitolo introduttivo, finalmente gli eventi cominciano a reclamare una propria autonomia, presentandoci nuovi personaggi e cercando poco a poco di tagliare il cordone umbilicale che lega la serie videoludica a quella televisiva. I lord perduti a cui accenna il titolo del secondo episodio sono i figli maggiori della famiglia Forrester. Il primo, Asher, spedito oltre il mare stretto, è attualmente impegnato a cercare fortuna a Yunkai. L'altro, Roderick, creduto morto durante l'assedio alle Torri Gemelle, è trasportato quasi esanime fino al proprio castello, assieme ai cadaveri del padre e dei compagni caduti. Il nucleo portante del racconto è proprio il ritorno del primo genito, terribilmente sfigurato e segnato dalla battaglia. Debole agli occhi dei suoi sottoposti, eppure è chiamato a tenere le redini del casato in un momento di crisi profonda. Nel rapporto con la madre e la sorella, nella necessità di ostentare una stoica sicurezza, si legge il tormento di una figura che, anche grazie alle ferite della battaglia, riesce subito a far breccia nel cuore del giocatore. Seguendo lo stile dello show targato HBO e del precedente episodio, comunque The Lost Lords salta da un personaggio all'altro, riportandoci nei panni del già citato Asher, di Mira e di Gareth Tattel, spedito tra le fila dei Nightwatch. Forse quella più accessoria è proprio la presenza di Asher. Qui il racconto resta però sul vago, limitandoci a farci vivere qualche sequenza d'azione ben ritmata, ottimamente coreografata, e perfetta per ribadire il carattere anche ludico della produzione. Assume finalmente un ruolo importante anche Mira, la sorella spedita da Prodo del Re al servizio della bella Marguerite Irrell. Oltre ad avere un ascendente importante sulle fortune commerciali della propria famiglia, Mira si troverà invischiata nei turpi intrighi di corte, vittima di certe misteriose macchine azioni e costretta a suo malgrado a reagire. Quello che più ci è piaciuto di questo secondo episodio è proprio il fatto che il plot recuperi integralmente è la deriva politica che spesso muove la penna di Martin. Alcuni giocatori potrebbero sentire, nel corso delle due ore di gioco, il peso di un ritmo forse un po' meno trottante rispetto a quello di Iron From Ice. Ma il bello di Game of Thrones sta proprio qui, nella sua capacità di abbandonare del tutto la dimensione epica del fantasy per farsi racconto di intrighi e di scelte diplomatiche. Il moderato successo del secondo episodio dipende anche dalla capacità di far sentire al giocatore il peso delle scelte. Mentre tutte le decisioni prese in Iron From Ice finivano per sgritolarsi alla luce del colpo di scena finale, qui ogni singola scelta sottintenda delle conseguenze importanti sulla lunga distanza. A margine, The Lost Lords si attarda pure a raccontare l'addestramento di Garrett Tattel all'ombra della barriera e del suo incontro con Jon Snow. Si tratta in verità di sequenze piuttosto marginali nell'economia del racconto, eppure ottime per allentare un po' la tensione e offrire al giocatore un quadro più completo sul mondo di gioco. The Lost Lords può considerarsi a tutti gli effetti il vero incipit dell'avventura firmata Telltale. Il primo capitolo resta, volenti o nolenti, una semplice parentesi. Qui le cose invece cominciano a farsi serie. Senza abbandonare del tutto l'azione, Telltale intreccia i fili di un racconto finalmente intrigante, ci mette di fronte a scelte morali che potrebbero avere forti ripercussioni, e getta al centro della scena protagonisti più decisi e meglio caratterizzati. La deriva prettamente politica dell'episodio finisce gioco forza per smussare i ritmi della progressione, ma avvicina finalmente la serie videoludica allo stile narrativo di Martin.